Non dico bene, signorina Margherita? Non l'ho fatta bene? Una patatina, signorina Margherita? Grazie. Per ego. Una patatina? Grazie. Ho fatto uno siero. Ciao, Matteo Gramaschi, come va? Oh, ciao, come va? Eh, non c'è malaccio. A proposito, hai letto sul Corriere dello Sport? C'è qualcosa che ti interessa? Ah, sì? Guarda, qui in prima fase. Fammi vedere. Signorina Margherita. Cin cin. Cin cin. Salute. E figli maschi. Signorina Margherita, approfittando di questa notte al solitudine, finalmente voglio dirle ciò che da tanto tempo le devo dire. Eh? Che cosa? Tutto il mio coso. Che? Lo vede, signorina Margherita? Ogni qualvolta mi trovo davanti a lei è tanta la mia emozione che non riesco più a trovare la barolina. Ci vedete. Permetti, Margherita? Camilloni, specialista di Decathlon. Piacere. Veramente lieto. Vincenzini, Pentathlon. Molto piacere. Molto piacere. I miei amici ci hanno invitato domani a Ostia. Sarà una bella gita. Venga, signorina. Non le piace il mare? Sì, tanta. Verrò volentieri. E viva il mare! A me mi piace tanto il mare. Mi piace più il mare che la montagna. Venga, signorina, venga. Passeremo qualche ora fra bella gente. Siamo una comitiva di sportivi, tutti campioni. Ha visto il nostro Arturo, signorina? Ve lo facciamo a vedere. Arturo Kremaschi parteciperà alla maratonina. Ah, auguraci. Grazie, Indio. Campione in maratonina, Arturo. Io lo sapevo. Anche lei è un campione? Sì. Anche lei è un campione? Sei proprio. Venga, no? Sei proprio. Venga, no? Oh! Oh! La c'è di ferro. Fantastica, no? Sì, ammazzata. Ha vinto, signorina Margherita? Sono anch'io un campione, sa?